Salve carissimi amici tutubi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video parliamo del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni, in una storia del titolo serenata senza nome, prima di un nuovo circuito, di un nuovo ciclo di quattro romanzi, almeno inizialmente erano quattro romanzi, qui ovviamente saranno quattro adottamenti a fumetti, adattato da Brancato e Nespolino. Questa è la copertina, che dovrebbe riprendere la copertina dell'edizione dell'Axe, uscita già precedentemente. Questi sono un paio di pagine di interni, vi dico meglio che cosa ne penso, dopo la sigla. Il volume in realtà si apre con un personaggio di cui al solito non ricordo il nome, comunque Winnie Sannino, che ritorna a Napoli dopo che per anni, 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 anni è stato in America, dove ha fatto successo, ha fatto carriera, è diventato un pugile esperto, un campione di pugilato. Ritorna perché di fatto lui è sempre stato innamorato, era innamorato di questa ragazza e vorrebbe conquistarla. Se ne è andato via perché non aveva i soldi per poterla mantenere, per potersi dichiarare a lei, e adesso che è tornato famoso e forte del suo successo, vorrebbe per l'appunto coronare il suo sogno. Questa donna nel frattempo però si è sposata con un importante imprenditore economico, e quindi di conseguenza, quando questo imprenditore economico, questo ricco, magnate, verrà trovato morto, ovviamente il primo su cui si punterà il dito sarà proprio il nostro Winnie. Winnie che non ha un grandissimo alibi, poiché sì, c'è chi gli sta fornendo un alibi, ma ci sta e non ci sta, potrebbe essere anche interesse di chi gli fornisce l'alibi, fornirlo, e quindi di conseguenza il commissario Ricciardi non può sottostare a questa situazione qui, e indagherà veramente a fondo. Un'indagine nel quale anche noi lettori siamo in un qualche modo coinvolti, ci sentiamo chiamati, a cercare di capire quali sono i vari indizi che l'autore, da un lato per l'appunto Maurizio De Giovanni, dall'altro il signor Brancato, che è adattato per l'appunto il romanzo, ci fornirà di volta in volta per cercare di arrivare alla soluzione del caso. Caso abbastanza intricato, intricato anche per via delle varie sottotrame che vediamo all'interno di questa storia, perché se da un lato c'è il nostro bambinella che avrà tutto il nostro sottotrama e il vice commissario gli darà una mano per cercare di sbrogliare una certa situazione col suo amato fondamentalmente, cercare di capire come tirarlo fuori dai guai, dall'altro abbiamo la sfavillante storia d'amore del commissario Ricciardi e di Enrica che prosegue su due fronti completamente diversi. Di fatto quella che era una sottotrama che cercava di legare un po' tutti questi romanzi del commissario Ricciardi sta continuando, anche se a tratti sento che la si sta tirando forse un po' troppo per le lunghe. Capisco che se compri un romanzo giallo fondamentalmente non è la love story, quella che vai a ricercare e a richiedere all'autore e altri, sì vero, che quello è il motore collante di tutta quanta la collana, di tutta quanta la sottotrama principale che si dipana tra i vari libri, mentre invece ovviamente ogni volume ha il suo giallo di riferimento. Quindi c'è questo aspetto qui che in una qualche maniera mi ricorda un po' anche il mio buon Detective Conan e quindi in un qualche modo vagamente molto alla lontana mi ci posso anche ritrovare. È stata una lettura comunque piacevole, l'ho fatta serenamente un lunedì sera tornando in spiaggia al mare, me la sono letta proprio goduta in quell'oretta di pausa dopo il lavoro e prima di andare a cena ed è stata comunque una lettura che mi ha intrattenuto, ripeto, per tutta quanta la durata. Credo che sia salito, anzi sicuramente è salito il prezzo perché sono aumentati tutti quanti i prezzi di tutte quante le produzioni. Stiamo parlando di 9,90€ per un 180 pagine di storie a fumetti, complice anche il fatto che la storia in realtà non è in bianco e nero ma ha questa sfumatura, in questo caso di questo verdognolo bluastro, non saprei definire bene che colore sia, che va sicuramente ad incidere nei costi di realizzazione dell'albo e altresì vero che il commissario Ricciardi ha sempre avuto questa caratteristica, questa colorazione di fondo che l'ha caratterizzato graficamente e sono contento che si stia continuando a proporre questa soluzione perché è quello che lo caratterizza visivamente, lo differenzia da altre storie della collana. È un po' come quando Morgan Lost ha perso il rosso, secondo me ha perso tantissimo della sua forte personalità. Per quanto Ricciardi non è che ha sempre avuto un colore singolo, ha sempre avuto ogni albo, aveva una colorazione propria a seconda dell'atmosfera che si voleva dare. Quindi sono contento che questo si sia mantenuto. Vi ho fatto vedere anche alcune pagine della storia, così che visivamente abbiate un'idea. Vi ho fatto vedere anche alcune pagine direttamente prese dal sito della Sergio Bonelli Editore, quindi di conseguenza avete un escursus più 360 gradi. È un volume che si può leggere anche senza aver letto gli altri, lo comprate direi di sì, chiaramente vi perdereste un po' i vari legami tra i vari personaggi, ma il giallo in senso stretto, la vicenda è autoconclusiva. È una vicenda che inizia e finisce all'interno di questo volume, quindi risulterebbe comunque leggibile. Sia mai che qualcuno non conosca il commissario Ricciardi, lo veda in edicola, ti domandi, lo posso leggere anche senza... Potete farlo, perdete ovviamente il legame tra i vari personaggi, però questi non è che siano così rocamboleschi o così complicati, secondo me, da non farsi capire. Forse qualcosa con Bambinella, che forse è un po' il personaggio un pochettino più particolare dell'universo di Ricciardi e lì magari un po' si capisce e non si capisce quello che stia succedendo, ma tutto sommato il resto delle sottotrame amorose tra i vari personaggi vengono dove serve, viene specificato più o meno che cosa è successo in passato, per grandi e sommeline, ma per grandi e sommeline che ti fanno capire un po' qual è il contesto e del perché certi personaggi reagiscono in certi modi piuttosto che in altri. Opera quindi estremamente piacevole e consigliata, un po' come tutti gli altri romanzi a fumetti del ciclo del commissario Ricciardi, mi piacerebbe che si sbrigassero. Questo perché la serie di romanzi si è conclusa e l'adattamento a fumetti sta un po' ritardandosi sempre di più, sta rallentando parecchio. Credo che quest'anno non sia neanche uscito il magazine, che di solito usciva tutti gli anni a maggio, quindi siamo proprio in carenza, abbiamo un'uscita l'anno dei Ricciardi ed è vero che sono 13-14 libri e questo dovrebbe essere il nono adattamento, quindi ormai siamo abbastanza belli che avviati, non penso che interrompano le cose sul più bello. però questo rallentamento che capisco essere dovuto al fatto che avevano adattato il primo ciclo di romanzi per poi vedere come andava e quel ciclo l'avevano fatto tutto abbastanza in fretta, relativamente in fretta, ce l'hanno proposto in fretta nelle edicole per vedere poi come sarebbe andata, è andata bene evidentemente e sono piuttosto contento. Vedremo come saranno i prossimi e ve ne parlerò come sempre qui nella soffitta di camera mia. Soffitta di camera mia che nel frattempo, nel caso in cui magari è da un po' che non vediate i miei video, seguite solamente i video di Ricciardi, ha un link di affiliazione ad Amazon, tramite il quale potete andare a comprare questo volume nella sua versione deluxe se la trovo su Amazon. Al solito a voi non costerà nulla di più acquistare le robe su Amazon, ma se lo fate passando dal mio link di affiliazione, Amazon mi restituisce una piccola percentuale, quindi sosterrete economicamente il canale senza spendere nulla di più rispetto a quanto spendereste regolarmente su Amazon o da altre parti. Nel caso in cui vogliate però andare a acquistare questo volume da qualche altra parte in edicole, in fumetteria, siete più che liberi di farlo. È semplicemente un modo, se volete, per darmi una mano, ma non ce n'è bisogno, non necessariamente. E questo è quanto avevo da dire per voi per oggi. Da Francesco, dalla soffita di camera mia è davvero tutto, vi aspetto uno spazio di commenti per sentire che cosa ne pensate, se avete letto questa serenata senza nome, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, e in generale che cosa ne pensate della serie del Commissario Ricciardi. E noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!